Nel magico contesto di, Ballando con le stelle, lo spettacolo di danza più amato d'Italia, si è svelata un'altra commovente storia. Prima di continuare, ci teniamo a chiedere il vostro prezioso supporto. Un piccolo gesto, un semplice, mi piace, a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di enorme importanza. Grazie di cuore. Dopo l'emozionante omaggio di Lino Banfi alla sua defunta moglie nella prima puntata, è stato il momento di Giovanni Terzi, il compagno di Simona Ventura, di aprirsi completamente al pubblico. Con coraggio, ha condiviso la sua lotta contro la dermatomiosite amiopatica, una rara malattia ereditata dalla madre. Terzi ha rivelato di aver perso il 45% della funzionalità polmonare e che non c'è possibilità di miglioramento. Con sincera franchezza, nel video introduttivo, Terzi ha dichiarato, Ho già vinto con la prima puntata perché tre anni fa mi è stata diagnosticata questa rara malattia che sta lentamente uccidendo i miei polmoni, la stessa malattia che aveva mia madre. Ha condiviso i suoi timori, pensando alla madre scomparsa, e ha riflettuto sul momento attuale della sua vita. Ricordando la sofferenza di mia madre, ha detto, ho pensato che se io sono così, voglio andarmene. Non voglio essere un peso. La testimonianza toccante di Terzi ha suscitato un'ondata di empatia nel pubblico, mostrando la straordinaria forza e resilienza di chi affronta sfide così difficili con dignità e amore. Ci teniamo a chiedere il vostro prezioso supporto. Un piccolo gesto, un semplice, mi piace, a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di enorme importanza. Grazie di cuore.